Sì, partiti. Cavalli lungo la curva con passaggio sempre leader. All'esterno si mantiene Etoile D'Ajan per linee interne Preston, poi Tacma, Mardom, Massar e Traditional Chic in coda. Siamo in retta di arrivo con in vantaggio sempre passaggio con all'esterno Etoile D'Ajan tra i due circa spazio Preston, dietro i primi figura Mardom, quindi più indietro ancora Traditional Chic. Siamo a 300 dal palo, passaggio in vantaggio al suo attacco ora Preston, all'argo dei due Etoile D'Ajan, ma passaggio lungo la corda, sta allungando nel tratto finale nei confronti di Preston. Nelle battute conclusive passaggio, si difende bene da Preston, poi Etoile D'Ajan prende il terzo posto davanti a Traditional Chic. Ti vediamo le immagini di questa quinta corsa condizionata di centro del programma con in evidenza il numero 4 di passaggio, Carletto Fiocchi in sella. Al secondo posto il numero 5 di Preston, chiude al terzo posto l'1 di Etoile D'Ajan.